Siamo al nono congresso dell'Associazione Radicale Certi Diritti qui ad Arezzo, presso l'Hotel Continentale. E in mia compagnia c'è la nota, io direi leader radicale perché lei è una leader radicale storica, Claudia Sterzi che non solo secondo me ma secondo praticamente tutti i radicali è l'esponente maggiore per quanto riguarda l'antiproibizionismo e in questo caso parliamo di cannabis ma parliamo di tante altre situazioni antiproibizioniste in ambito radicale e non solo. Vabbè no, io ho detto così non te la posso passare perché allora io ti devo ricordare invece la famiglia di turbinanza civile di Pannella che è del 1978, cioè ti devo fare le turbinanze civili di vita, non si può assolutamente dire così è troppo. Però ti ringrazio, io sono effettivamente una leader antiproibizionista radicale e questo mi ha riconosciuto perché ci ho messo tanti impegni in studio perché mi interessava davvero perché c'era una passione poi, voglio essere una persona sincera sull'antiproibizionismo proprio come strategia di governo e quindi per forza di cose poi le persone mi chiamano, mi considerano comunque esperta e io sono una cosa che mi piace molto e ne sono molto contenta. Ti conosciamo comunque da molto tempo e ti conoscono da molto tempo i nostri amici web ascoltatori e sanno anche del tuo impegno non soltanto a carattere locale ma anche appunto extra regionale diremmo per quanto riguarda appunto la sensibilizzazione del problema che c'è in Italia, delle persecuzioni, io le chiamerei nei confronti delle persone che decidono di coltivare la cannabis e la marijuana ma soprattutto di farne un uso meramente personale. Certo, sicuramente la persecuzione c'è in Italia, bisogna ricordare che la persecuzione c'è in molti paesi del mondo perché la war on drugs purtroppo non riguarda, magari anzi in un certo senso, riguarda se solo l'Italia è qualcosa di molto più vasto per cui persecuzioni verso i coltivatori ce ne sono in tantissime parti del mondo, un esempio che mi viene in mente subito è quello dei coltivatori di coca andini che sono piccoli contadini, sono persone coltivatori che poi fanno questi piccoli campicelli o per uso personale o perché la criminalità li costringe a coltivarla per loro e quindi sono continuamente poi messi nel mezzo perché gli va la polizia, li distruggono, li bruciano i campi, allora poi arrivano i criminali, si arrabbiano anche loro e li distruggono anche la casa, cioè li pigliano la figlia eccetera eccetera eccetera. Quindi la persecuzione sicuramente in Italia, certamente che c'è persecuzione perché qualunque persona, a parte chiaramente se uno è un noto esponente politico la situazione è diversa, però se una persona qualsiasi viene trovata con 18 piante di majorana in casa, cioè sicuramente ancora oggi si butta via la chiave, non si butta via la chiave per sempre ma insomma si entra in un circolo penale gravissimo perché gravissimo e quindi sono anni di detenzione manette, le manette che scattano, mentre ancora adesso, pur essendoci stati diversi candidamenti nella legge italiana, ancora adesso se tu hai una scima di canapa perché l'hai comprata in piazza alla criminalità organizzata, sei uno che ha fatto un reato amministrativo, se tu hai questa scima perché l'hai coltivata sei in un reato immediatamente penale e questo cosa vuol dire? Vuol dire le manette, quindi vuol dire la carcerazione perché a quel punto diventa una cosa per cui vieni il più delle volte e realmente poi messo in manette e portato. Poi c'è tutta la disparità a seconda della classe, è chiaro che poi la giustizia si applica con dei criteri di classe come molte altre cose, no? Per cui ci sono delle variazioni enormi a seconda di chi sei, a seconda di in quali contesti, in quale situazioni tu appunto commetti per virgolette. Vediamo tanti artisti famosi e meno male anche in un certo senso che dichiarano pubblicamente il loro uso, ho fatto coming out perfino con la digos, dice J-Ax, no? Cioè Maria Salvador è una canzone che è andata in tutta Italia senza alcuna censura, che non ha prodotto giustamente nessuna conseguenza per l'autore e il cantante, perché ci mancherebbe pure, così come le disobbedienze di Vita Bernardini per altri aspetti, cioè non hanno prodotto l'arresto, è chiaro perché viene permesso comunque a certe personalità di farlo, che sia una personalità appunto politica, economica, pensiamo alla poeca, insomma, no? Per fare l'esempio su tutti rispetto a quella economica. E quindi c'è tutta una disparità di trattamento. Poi c'è il poperaccio, a maggior ragione sesta comunitario, ma anche italiano, proletario, non in grado bene di difendersi a parole, che non ha le conoscenze giuste, che viene immediatamente invece, entra in un circolo, in un circuito un po' infernale, perché spesso viene anche maltrattato, malmenato, perché è drogato, e quindi in quanto è drogato perde immediatamente ogni divitto umano. Tra l'altro ci sarebbe anche da precisare che gli antiproibisionismi in generale, partendo dall'alcol, ma da tante altre proibizioni, sono state comunque poi superate dalla legalizzazione e quindi anche in questo caso dal levare alla criminalità, sia microcriminalità, ma parliamo anche di criminalità, a livello molto più grosso, un introito che comunque potrebbe essere molto ampio. Pensiamo ad esempio alle sigarette, cioè le sigarette si sa che comunque facciano male, non fanno male, comunque sono state legalizzate e nessuno dice nulla. Poi per quanto riguarda la marijuana io penso che sia lo stesso percorso, si ci arriverà, se ne parla un po' in politica. Ma poi guarda le sigarette, mi ricordo un periodo, un lunghissimo periodo, quando ero ragazza, le sigarette di contrabbando si andavano a comprare in alcune zone di tutte le città c'erano i gresci, o a mio esempio c'erano i gresci, se andavano i gresci in una zona di Firenze, che non mi ricordo neanche più come si chiama, Firenze Nova, c'erano questi gresci con le scatole di cartone che vendevano le sigarette di contrabbando anche a Firenze, nel senso che comunque, c'è Francesco qui, nel senso che comunque, anche lì c'è stata una fase di transizione fra la vendita legale e il contrabbando, ancora adesso in Africa c'è stato per anni il contrabbando di sigarette che ha preceduto e si è servito degli stessi canali che usa adesso per portare invece metanfetamina, cocaina e tutto il resto, quindi cioè i paralleli da fare sono tantissimi, sempre la previsione ha prodotto un aumento dei consumi e un aumento dei prezzi, questa è una cosa storica, l'oppio, il caffè, il tabacco, abbiamo visto l'alcol, abbiamo visto centinaia e centinaia di esempi in tutti veramente i climi e in tutte le situazioni della storia in cui la previsione è sempre generata ed è sempre stata anche usata per generare questo perché questo garantisce altissimi profitti ad alcuni, ci sono guerre scatenate, la guerra dell'oppio, insomma sono conosciute, ci sono delle guerre enormi, ci sono degli episodi tipo quelli del tè che sono legati proprio al fatto che il tè è un, quello del tè dico sia nel caso americano quando si formava l'America sia nel caso poi della Cina, ci sono state delle lotte per diversi tipi di sostanze a maggior o minore ragione considerate stupe pacienti quindi sicuramente, certamente la previsione non ha mai portato niente di buono se non la soddisfazione poi di fare una cosa per vita e questa se ce la tolgono forse ci dispiace quindi praticamente l'unica cosa che ci dispiace è che se finisce il previsionismo non c'è più il gusto di fare una cosa per vita questo è vero però dobbiamo anche dire che chi utilizza la marijuana per scopo terapeutico ad esempio è una speranza anche di una vita sicuramente migliore rispetto a quella che non vivrebbe se non la usasse e abbiamo dei compagni radicali che la utilizzano e ne fanno uso e devono addirittura acquistarla dall'estero quando potrebbero tranquillamente coltivarsela da sé sì sì ma poi io tante volte ho pensato io mi ho portato a prendere la madre che ha passato gli ultimi anni della sua vita in una residenza protetta e praticamente questi anziani poi la sera venivano riempinsati di psicofarmacy perché dovevano calmarsi tutti e dormire e non darsi nole l'un con l'altro e quante volte ho pensato ma non sarebbe tanto più semplice se potessero usare il THC che li farebbe meno male dal punto di vista di effetti collaterali starebbero tutti tranquilli semplicemente senza bisogno di ricorrere e lo vediamo questo in tanti casi anche nei carceri si fa un grandissimo uso di psicofarmacy poi alla fine quindi sicuramente se può essere usato su questo non c'è bisogno neanche di niente ma in Italia la canna pari medicinale dal 2008 e quindi non c'è niente da dire è un medicinale e direi che ci mancherebbe altro il libero accesso con le possibilità anche naturalmente economiche di pagarlo meno o non pagarlo come succede per tutti gli altri farmaci d'altra parte no semplicemente prevedendolo come parte del... ma penso che ci arriverà veramente a breve è chiaro che poi ogni battaglia porta i suoi sacrifici ti faccio un'ultima domanda perché ti lascio poi al nono congresso dell'associazione radicale di certi diritti tu sei mamma sei nonna come educhi i tuoi figli per quanto riguarda l'antiproibizionismo in generale non parliamo soltanto di droghe leggere ma... no no veniva in mente prima infatti io guarda come educo non educo più perché mia figlia hanno più di 30 anni oltre e due quindi non gli educo più però mi veniva in mente prima sul trasgredire che a volte mia figlia mi ha detto tu mi hai tolto e piace veramente trasgredire perché in realtà io ho perbito molto molto poco anche forse in maniera esagerata perché ero 20 anni ero cioè come sempre si esagera e quindi poi oggi rivedrei leggermente leggermente rivedrei la cosa perché poi comunque dei paletti la vita te li dà la società te li dà per cui è bene anche avere un'abitudine fin dai primi anni di vita al fatto che possano esistere dei paletti ci mancherebbe quindi magari in questo senso sì però in realtà siccome non credo veramente al valore della prebizione se non ci credo a livello di Stato a maggior ragione non ci credo a livello di famiglia non serve a niente produce violenza produce in genere il contrario di ciò che vuole che vorrebbe in teoria produrre e quindi come tutti i prebizionismi oltre a non ottenere l'effetto voluto produce anche una serie di effetti secondari assolutamente non desiderabili e siccome insomma a un certo punto visto che qui siamo cerchiamo di vivere il meglio possibile semplicemente io ringrazio Claudio Asterzi ci ha dato anche il suo contributo come mamma e nonna diciamolo e niente le auguro un buon congresso della società radicale di certi diritti ma soprattutto una buona prosecuzione delle sue battaglie che continua tutti i giorni e chissà che magari qualcuno guardando questo video non dica io mi ispiro a Claudia Asterzi per le mie battaglie sì che faccio da modello io e vabbè ognuno ha i suoi modelli appunto e poi fa da modello a volte è curioso vedere veramente chi sono i tuoi modelli ma anche a chi a chi fai da modello è buffo grazie a tutti grazie ciao Libri di TV grazie a tutti grazie a tutti